Filippo Pitarello una doppietta fantastica per una vittoria molto molto importante per la Luparense che risale ancora in classifica e la quinta vittoria di fila. È un percorso che abbiamo cominciato a metà anno, fortunatamente le cose ci stanno girando a favore, siamo sull'onda dell'entusiasmo quindi speriamo di continuare così. Il feeling con Beccaro soprattutto nei gol è stato decisivo? Mi trovo bene con tutti i compagni, ovviamente con quelli di reparto, ci deve essere un feeling superiore perché quando si arriva là davanti bisogna capirsi, comunque grazie al gruppo e al lavoro di tutti stiamo affrontando questo periodo nel migliore dei modi. Senti, la zona playoff si avvicina, la Virtus Vecamp a quanto pare ha perso, ci credete in questi playoff? Noi giochiamo tutte le domeniche per vincere, sicuramente non andiamo in campo con l'idea di perdere o quant'altro, se giochiamo così penso che i playoff possano arrivare e noi ce la metteremo tutta e affrontiamo questo obiettivo come se fosse l'unico. Una dedica per questa doppietta? Una dedica speciale non ce l'ho, ringrazio tutte le persone che hanno creduto in me, in particolare la mia fidanzata e il mio procuratore. Grazie